Bene ragazzi io sono Martex, bentornati sul nuovissimo video mattutino nuovamente a scogliere scoscese Ci siamo super carichi perché oggi dovrebbe apparire al 100% un nuovo luogo, un nuovo punto di riferimento Ed è proprio lì, il nostro astronauta antico ci sta aspettando Tra pochissimo vedremo la navicella emergere, guardate come si vede bene Ragazzi mancano solamente due metri, aspettate fatemi scendere un altro po' Tutto ciò guardate un po' con bacia con le sfide della settimana 7 che ci permetteranno di sbloccare degli stili aggiuntivi per la skin che sto portando Tra l'altro dovrebbe essere proprio il boss di questa zona Il tutto è confermato tramite l'X, l'abbassamento dell'acqua si porterà come al solito avanti alle 9 di quest'oggi Ma anche se guardiamo lì in alto a destra sulla mappetta notiamo tantissimo la superficie di questa nuova zona Cosa che riusciamo a vedere ancora meglio tramite questa immagine Esatto raga, questo è il livello dell'acqua che avremo tra pochissimi minuti su Fortnite Tenetevi pronti perché poi dovremo recuperare i pezzi della navicella ragazzi Eccolo lì, uno riportare il tutto alla navicella e ripararla Come al solito vi aspetto in live, mi raccomando non mancate ragazzi perché scopriremo tutto ciò che accadrà in game assieme E passiamo alla prossima info raga Finalmente potremo picconare ogni singola cosa presente su questo gioco con i nostri pugni ragazzi Erano mesi che pensavo a questa cosa e adesso il tutto sta divenendo realtà Dal comunicato ufficiale di Epic Games raga Ottieni il piccone spaccapugni di Hulk e lo stile bonus Hulkbuster quando completi la beta di Marvel's Avengers su PS4 e Xbox One Raga avete sentito bene, una nuova collaborazione con la Marvel e molto presto questi picconi verranno introdotti in gioco Ok Vediamo però come sbloccarli in anteprima perché gli stessi item verranno poi portati nel negozio giornaliero Per mettere le mani su queste incredibili mani Mi stai trollando? Incluso lo stile Hulkbuster dovrai completare tre sfide danno su PS4 o Xbox One Raga ma sono carinissime le mani di Hulk, fantastiche, sono proprio quelle giocattolo che potete comprare dal vivo Verranno messi in vendita in seguito sul negozio oggetti, quindi già detto raga, però confermiamo al 100% Infine però cosa bisogna fare per ottenere tutto ciò? Qui dice la beta di Marvel's Avengers sarà disponibile per il download sugli store di Xbox Live e PlayStation Ecco il calendario completo della beta Dal 7 fino al 9 agosto preordine Marvel Avengers solo per i giocatori PS4 E quindi ragazzi come al solito Sony in primo piano Dal 14 al 16 agosto beta aperta per tutti i giocatori PlayStation 4 Dal 14 al 16 agosto il preordine invece ragazzi Qui si tratta di preordine per Xbox One E invece 21-23 agosto potranno giocarci Xbox One e PlayStation 4 Praticamente a quanto ho capito sarà una sorta di demo che potremo scaricare per poi completare delle sfide Però attenzione a questo step ragazzi perché dovremo collegare i nostri account di Epic Games e quindi di Fortnite Con il nostro PSN oppure il nostro Xbox Live Ed infatti qui lo dice ragazzi lo va a confermare Oltre a completare le tre sfide d'anno dovrai assicurarti che gli account della console di Epic e di Square Enix Siano collegati correttamente Per prima cosa assicurati che i tuoi account di PlayStation o Xbox Live Siano collegati al tuo account di Epic Games Ragazzi questa è la prima cosa da fare Dopodiché dobbiamo visitare questo sito In caso ve lo lascio qui sotto in descrizione E collegare ragazzi il nostro Epic Games Lo so magari così risulta difficile ma è davvero una stupidaggine Concludono dicendo che l'ultima beta di Marvel's Avengers termina il 23 agosto Per evitare frustrazioni ricordati di completare la beta e le sfide d'anno prima che sia troppo tardi Ragazzi davvero facilissimo mi raccomando segnatevi le date per il preordine e poi per poterci giocare Completate le vostre sfide ed ottenete questo bellissimo piccone perché è davvero fantastico GG all'Epic Games che va a collaborare un'altra volta con la Marvel E ci porta Hulk in game Saranno fantastici raga Dei picconi favolosi Prima di passare allo shop giornaliero raga Avete visto per caso ieri il trailer presentato da Fortnite per la Summer Splash? No? In quest'ultimo abbiamo visto qualcosina raga Un po' strana Una skin mai vista prima Stiamo parlando proprio Non di loro non di loro Già le conosciamo Di lei Ragazzi è fantastica E credo proprio che si tratti di una skin presente all'interno di una schermata di caricamento Di questo pass battaglia È davvero bella ovviamente non so quando verrà implementata nello shop giornaliero Chissà magari stanotte che dite raga Solo per la pettorina ed il caschetto mi fa impazzire Lo shop si refresha proprio adesso Vediamo un po' che cosa ci dropperanno quest'oggi Let's go let's go let's go Via con il refresh Sparti rotellina Complex Dynamo Ash Lama di ghiaccio Brevity Basta No aspetta pesce combattente Cosa 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 A pesca di successi Ok Ragazzi animata Non è male Carina No qui sull'elicottero non si nota nulla Ma sullo scar ci sta benissimo Peccato che non presenti più colori raga Potevano farlo un tantino più fluorescente E chissà Magari essere reattiva alla notte Ci starebbe tantissimo 500 V-Bucks di Vrap Allora abbiamo Apripista Miglior skin di oggi Dynamo non la contiamo 1200 V-Bucks per quell'altra 800 per lei Eccola qui raga Eccola Oggi vi divertirete un sacco nelle lobby alle quali parteciperete Prima emot da 200 V-Bucks Sasso carta forbici Li vale? Li vale tutti ragazzi 200 V-Bucks per un emot davvero Meravigliosa Baldoria E' parecchio movimentata Per 200 V-Bucks è parecchio movimentata Movimenti eleganti Ci sta Ci sta tutto ragazzi Allora Ash Molto bella Preferisco l'altra sua versione Ragazzi quella del pacchetto Poi Attacco furtivo Le doppie lame no Sono tutte bocciate per me Ne ero vissuto come Vrap Vediamo un pochettino Normalissima Xyle Oxyle Deltaplano reattivo Splende di notte Capito? Splende di notte Schizzo di vernice 500 V-Bucks per una Vrap davvero bella Ricordo raga Ricordo quando la presi tramite la competizione Ah si ma la skin complex Fantastico Il backpack di questa skin Venne poi introdotto Molto più tardi Rispetto alla release ufficiale della skin Allora Lucentezza stradale Bello Ma poi sti colori raga Questi neon Davvero Un set perfetto Lamea di ghiaccio Carino come sound Niente male Brividi raga Non presenta stili Fantastica però Bella come skin davvero bella Io la utilizzerei ovviamente senza Il backpack Credo che lo shop Si vada a concludere proprio qui raga Non abbiamo dimenticato nulla Vero? Come sempre vi ricordo che se volete Potete supportare tutti questi video mattutini Cliccando qui in basso a destra Su supporto a un creatore E digitando Il centro della schermata Il mio code Che tra l'altro è scaduto Vedete? Creatore supportato Martex Però è appena scaduto ragazzi Lo ridigitiamo Martex Tutto attaccato Maiuscolo minuscolo Sempre uguale E cliccate su accetta Per riaggiornarlo Poi ogni 14 giorni Mi raccomando Ricordate questa fase Importantissima Ragazzi A tra pochissimi live Oppure in un prossimo video mattutino Un salutone da Martex Ciao 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 Ciao